Se stai avendo problemi riguardo al bluetooth, ovviamente se per caso hai formattato il computer e non ti ritrovi più il driver per il tuo bluetooth, però hai una scheda di rete wifi con bluetooth integrato all'interno, è possibile riscaricare da capo i driver per la tua scheda di rete. Se no puoi semplicemente acquistare una chiavettina bluetooth e connetterti con il bluetooth, con altri dispositivi, in questo caso io così faccio, ho una scheda di rete solo per il wifi ma non ha il bluetooth, quindi per il bluetooth io mi arrangio con una chiavetta. In questo caso facciamo finta che tu hai una scheda di rete nel tuo computer, tipo per esempio una scheda di rete come questa, un adattatore sia wifi che bluetooth. In questo caso per vedere come aggiornare i driver bluetooth sulla tua scheda di rete, andiamo direttamente su logo start qua sotto, tasto destro sopra, gestione dispositivi. Ed eccola qua, schede di rete, tip link wireless MPC express adattatore, questa qua è la mia scheda di rete, quindi io vado direttamente a copiare il nome di questa scheda di rete e vado a trovare così i driver per la mia scheda di rete, qua su, del tip link driver ed ecco qua i driver. E vado a scaricare i driver e vado a scaricare i driver e vado a scaricare i driver e faccio funzionare di nuovo il bluetooth. Per quelli invece che vogliono cercare il driver della propria scheda di rete e scaricare i driver e stai certo che il bluetooth poi tornerà a funzionare. Se no in questo caso andiamo direttamente su impostazioni dei dispositivi bluetooth e di altro tipo ed eccoli qua. Quindi andiamo direttamente, io vado a connettere, vado a collegare la mia chiavetta bluetooth ed eccolo qua, ha tre dispositivi e questo è il mio bluetooth. Faccio direttamente rimuovi, rimozione del dispositivo, scollego così la chiavetta e riconnetto. Il bluetooth qua sopra è tornato a funzionare, modifica, impostazioni oppure vai a impostazioni. Se no puoi semplicemente andare su Windows Update e vedere se devi fare qualche aggiornamento sul tuo sistema. Ho un aggiornamento da fare sul mio sistema e lo sta facendo. Vado di nuovo sul tasto destro su Start, mi sono dispositivi ed ecco il mio bluetooth. Se a te il bluetooth è connesso, quindi è collegato al tuo computer e qui vicino c'è un triangolino giallo, tu devi solamente cliccare il tasto destro sopra, aggiornare i driver. Cerchi il driver nel computer, scegli da un elenco driver disponibili. Clicca il primo, fai avanti e installi così il driver per il tuo bluetooth. Se no puoi semplicemente disabilitare il dispositivo e abilitarlo. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Il bluetooth sicuramente sta sempre nella scheda di rete integrato e quindi bisogna riscaricare i driver della tua scheda di rete. Basta che prendi il nome della tua scheda di rete andando su gestione dispositiva e trovi il nome. Lo cerchi su google e cerchi driver download e scarichi e installi gli aggiornamenti per quella scheda di rete. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!